Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Questa settimana? Ma questa puttana mamma! Ma scusa, ma scusa, ma scusa, ma tu te la montava, ho fatto che tu dici, io non c'ho abito proprio per cattare il calendario e poi ti metto a fare i tubi fino in terra, ma perché non te la cattavo il calendario a posto e te la montavo su Peru, scusami! Eh, o no, Ciro? Ti ha fatto su Peru? Eh, te la montato fino al mochi, te ne tengo centesimi, ma com'è? E poi bello e buono mi metto a donare i tubi fiori in arecchio, cioè i tubi fanno male in arecchio, eh! Eh, si, è la buona! Loro per carassi, sono sulla canzone praticamente Dacca la puttana nonno! Il buon mire t'ha fatto! Ma io ho trovato la moto, la moto niva! Oddio! Ragazzi! Mi spoglio nudo! 3 2 1 Mi dispiace, solamente devo andare Il mio posto è qui Oddio! No, vai, è un po' di mutanda, sei visto? Visto la cia No, non clippate, non clippate! Dai, è un po' di mutanda! La puttana mamma ti ha giocato a mano, porco dio! Ma non è che la cessa di mamma, ti palloncino e merda! Vaffanculo! Ah! Allora, fatto grazie No, è un po' di matto! Qui può parlando del telefono? State adesso a con me Sto parlando con uno! Vmel try Scriptureed Ma se ce l'ِّonco possiamo parlare? V 80 Prima Ciao 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 Oh B 796 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 7 E che hanno potei crack Delle stagujemy Mi dist gym Domanda Eh Domanda Egh Oh mio 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 Engula Cranos ha posato i soldi 2 euro La domanda è La domanda è Eh La domanda è Ah La domanda è Eh La domanda è Eh Qual è Come la domanda è digo La domanda è 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 Su No solo un coglione ecco qua no 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 io no bravo solo due bravo due si è mangiato la pasta a tartufi in culo ma ora ora mi è la pasta a tartufi porco dio ma che luca che luca è una palloncina cretina ma non sei normale ok no avvicina su un cazzo non c'è trucco e non c'è inganno guardate la soccola il mondo attraverso me tra l'altro guardate che figlio mannaccio mi sono paura questa è questa è oh ti si sente ti si sente Gennaro non so che vado ogni sera no si sente si sente no marone credi tratti morırcaldio è la grossa non so non so mannaccio Jesus Christa è così si giaci si giaci si giaci si giaci ti giaci seco uff 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 i uff 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 come si può entrare su peckville del server non è pecca i pick pack il ragazzi ho pensato troppo tardi a poter entrare in pecca quindi ci sta ci sta che mi hanno preso prima di me rende voglia di riserve sa come quindi ci sta che qualcun altro se l'è preso un augurio speciale alla mia fans viola auguri un bacino a te tesoro mio e questo è dedicato solo per te vai a pack gianna tanti auguri viola tanti auguri tanti auguri A te be 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 tanti auguri a te 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 be tanti aug Ecco, ecco! Ecco, ecco! Così? Facciamo arrivare questa dedica per il signor Red Ritual, se ci arriva questa dedica. Facciamo arrivare la dedica per il signor Red Ritual, signori? Chi la vuole far arrivare? Ando, ti! E poi mi sei chissato. Clippato, è manato a Cillo. Pezzo di merda. C'è abbandonato. Dedica un palloncino? Andando, andando. E' bene. Marti? Marti? Che so? TV. Eh? Tutti i palloni sono in una foto. Ciao, Naturo Fasco, fa Discord! Ah! 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 Alla puttana zocco, da! E lo devi mettere per bene il buco, capiamo? Non ti preoccupare. Niente. Ma va a fa' un culo! Tutto, cazzo! Ah! Ciao, Naturo! Ah! Ah! Grazie a tutti.